Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, come sempre Tizio andiamo avanti con la nostra carriera con la SPAL Siamo arrivati all'episodio numero 40 Dopo ben 40 episodi la nostra SPAL si trova alla quarta stagione, alla fine del mercato di gennaio Con davanti a sé ancora una stagione con tutte le competizioni aperte Abbiamo il campionato dove siamo a meno 3 dalla vetta, anche se è una classifica molto combattuta Come potete vedere la Lazio in questo momento guida la Serie A però con una partita in più Poi c'è il Milan, la Juve e la SPAL con subito dietro Napoli e Inter Per cui siamo messi bene ma la Serie A sarà una competizione combattuta fino alla fine della stagione Siamo anche ancora presenti in Coppa Italia dove siamo approdati alle semifinali contro il Napoli Dopo aver battuto il Torino ai rigori e l'Inter con un intelligente ma sofferto 1-0 E siamo anche in Europa League dopo dei gironi stratosferici Adesso la fase eliminazione diretta ci vede contro il Feyenoord ai sedicesimi di finale E già in questo episodio vedremo un bel po' di partite Non so se riusciremo a vedere già l'Europa League ma vedremo tre partite di Serie A Tra cui ci sarà anche la gara con il Milan molto combattuta E poi sicuramente vedremo l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli con ritorno fissato al primo di marzo Quindi speriamo di mettere già delle solide basi per poter puntare alla finale E invece poi l'Europa League credo che la vedremo nel prossimo episodio Ma insomma nelle prossime settimane non possiamo perderci nessun secondo di questa carriera Perché ci saranno un sacco di emozioni pronte ad attenderci Vi ricordo ovviamente per chi non l'avesse già fatto di andare a scaricare l'app di OneFootball Che sponsorizza e supporta questo canale È un'app completa che vi dà la possibilità di seguire le partite in diretta Con tutte le notizie aggiornate, le classifiche, i marcatori e anche le notizie fuori dal campo Vi consiglio di utilizzare il link in descrizione per andare a scaricarla se non l'avete già fatto E saluto ancora OneFootball e ringrazio per il supporto Tra Fiorentina e Milan ci saranno solo due giorni di riposo Quindi ho dovuto fare dei cambi anche se pochi Ho messo Tonali, Collei ed Est titolari Ovviamente tre punti con la Fiorentina o con il Milan sono sempre tre punti in Serie A Quindi non volevo fare troppo turnover Però cerchiamo di tenere qualcuno fresco per la gara con il Milan Vediamo come andrà con la Viola e in caso faremo dei cambi nel secondo tempo Bacuna, Bacuna, Bacuna! Parata di Bolat, Bolat, Bolat! Chi è Bolat? Ruba palla ovviamente E poi Dani Olmo, Dani Olmo, è partito Dani Olmo Attenzione, c'è spazio per cavalcare C'è spazio, Dani Olmo Dani Olmo! 0-1! Mai lasciare un contropiede a Dani Olmo È gol sicuro, è gol certo Andiamo subito in vantaggio contro la Fiorentina Guardate che scatto rapidissimo, imprendibile E poi il classico destro a incrociare di Dani Olmo Dani Olmo Allora qua direi di mettere Ezekiel senza alcun dubbio E metterei anche il sergente di ferro perché ci servirà Werner contro il Milan E così diamo tempo al sergente stavolta in mezz'ora di macinare terreno Sergente Van de Beek Dentro Barco Barco Scatenato Barco Scatenato Barco! 0-2! Ezekiel Ezekiel Barco Ezekiel Barco In una forma smagliante Ha fatto una stagione straordinaria È arrivato per fare il sostituto Ed è il miglior sostituto che potessi desiderare Ezekiel Barco E chi se no Secondo me è anche più incisivo, più forte di Kluivert in questa stagione Senza alcun dubbio Grandissimo Ezekiel Barco 0-2 Van de Beek Dentro Il sergente Il sergente! Miracolo di Bolat Lo volevo il gol del sergente Sfortunato qua c'è anche un giallo per Wilshere E poi sargent No, Serginio Dest Sono già impazzito Già impazzito la prima partita Attenzione Il sergente! Di ferro! 0-3! American Sniper Incredibile! Il cinismo di questo sergente di ferro Agli ordini Sargent Per questo ennesimo gol Fulminante Qua Bolat non poteva far niente Non si aspettava questa fucilata del sergente In girata al volo così Gasperometro Barcometro E chi più ne ha più ne metta Sargent ed esterno per Barco E zecchia il 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 Barco! Dentro! Il sergente di ferro 0-4! Il sergente! Il sergente! Sono entrati Sargent E Barco E hanno Stravolto la partita Li abbiamo messi in campo Per far riposare i titolari E invece guardate che prestazione Guardate che prestazione Dei due subentrati Barco e Sargent Da 0-1 A 0-4! Finisce la partita 0-4! I tifosi della Fiorentina Ovviamente Quasi Più che indispettiti Scioccati Scioccati da questo 1-2 finale Che sicuramente Rende Ancora più amaro Il Giudizio finale Voglio vedere Quanti assist Stati fatti Allora Due da Van de Beek Uno da Barco Uno da Tonali Con poi Un gol di Olm Uno di Barco Due di Sargent Però insomma Voti altissimi Per i nostri giocatori Anche in difesa Difesa che ha Disputato una partita Esemplare E pareggiano Sia Napoli-Milan Che Juve-Inter Quindi Dovrebbero esserci Dei cambiamenti In classifica Se non erro Kluivert sale A 86 Andiamo a vederlo Qua in squadra E' chiaramente Salito molto Anche lui In questi anni Non giocherà Con il Milan Penso Adesso dobbiamo simulare Due giornate E vedere quanto Saranno riposati I nostri ragazzi Un terzino sinistro Che magari Potremmo anche Prendere in prestito Che ne dite Perché se andiamo a vedere Sulle finanze Non abbiamo più Così tanti soldi Però possiamo Prendere un terzino Sinistro in prestito Proviamo Emerson Niente E capito Pellegrini chiesto A gran voce Guarda Contata per il prestito Il club Non è interessato Allora Niente Ci stanno facendo un muro Non ci danno nessuno Vogliamo provare A prestito Fares Niente Basta Non ci danno nessuno Non ci vogliono dare nessuno Lukaku Non sappiamo nulla Contata per il prestito Niente Basta È andata Nessuno mi vuole dare nulla Zagre Accetterebbe il prestito Sì mi sa che è l'unico Che ha accettato il prestito Vabbè Allora a caso Lo prendo Ma sulla base Dei vostri consigli Perché ho provato A prenderne 18.000 50-50 Va bene Dai accettami Sono tui coglioni Eh sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Ha preso i mezzi Per venire alla SPAL Abbiamo noi pagato Un aereo Per venire alla SPAL Vediamo Intanto l'Angla A 105 milioni Va dal Barcellona Alla Juve Perché si è attivato Il glitch realismo Attenzione Interesse per Trossard Ma non ci interessa Non ci interessano Questi brand Di moda Preso in prestito Zagre Arthur Zagre Arriva in prestito Dal Bayern Monaco Bayern Monaco Punta molto Su questo giovane Ma non riesce A dargli tanto spazio E quindi lo lascia Alla SPAL Che non gli darà Tanto spazio Ma almeno abbiamo Un sostituto Per Teo Hernandez Che arriva in prestito L'unico prestito Accettato Di tutto il mercato Perché il 7 Riprende la Z E il 3 È la 100 finale 73 Zagre Dai ci siamo Dopo aver detto Anche sta stronzata Possiamo andare in campo Contro il Milan Dicevamo A San Siro Se si vedano le squadre Con le righine Più sottili del mondo Si parla di Piontek Capo canoniere Di questa Serie A Giocatore Evidentemente Qua su FIFA Straordinario Invincibile Ricordiamo anche Il capitano Condogbia Giusto per aggiungere Quel tocco di realismo A questa carriera Non sarà facile Affrontare il Milan Devo dire che Contro di loro Non me la sento Di fare Il gradasso Anzi Poi c'è Goetze È una squadra Tutt'altro che facile Da affrontare Olmo Donny Stop Tiro Palla fuori Subito Donny van de Beek Scatenato Bene Donny 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 Il tiro di Donny van de Beek Ancora fuori Ancora fuori Deve sistemare un attimo La mira Il dragone Il dragone Il dragone Rodraigo 0-1 Il dragone Sputa fuoco A San Siro E butta la palla in rete Ma Bakuna ha fatto uno scavetto Che è epico Un assist mostruoso Di Bakuna Per Rodraigo Che fa il suo primo gol Nella spalla In una gara così importante Molto felice per lui Dopo due occasioni Falliti da Donny van de Beek Questo derby Delle righine sottili Si apre con il gol Di Rodraigo Dani Olmo Ne salta uno Dani Olmo Ne salta due Dani Olmo Attenzione Dani Olmo Straordinario Dentro Timo Werner Timo Werner Timo Werner Palla dietro Non ci arriva Bakuna Su questa palla Però attenzione Rimane pressing Furibondo Rodraigo Madonna ragazzi Che dribbling Questo giocatore Timo Werner Rodraigo 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 Il destro a giro Zero due Incredibile Si sblocca il dragone In questa partita Così delicata Con Alla fine Cos'è Assist di Zagre Non lo so No Scherzo È stato un Uno due Con Timo Werner L'assist sarà Di Timo Werner Comunque Doppietta Di Rodraigo In questa partita Contro i rossoneri È l'anno del drago È l'anno del drago È il giorno del drago Anche In realtà è l'anno del topo Se non sbaglio Vabbè Rodraigo Salta uno Il tiro a giro Traversa Ragazzi aveva fatto un destro A giro Clamoroso Olmo Dentro Dani Olmo Dani Olmo Parata di Donna Rumma Ma il Milan non c'è in campo Quest'oggi Ciprienne Ciprienne Il destro di Ciprienne Ciprienne Segna anche lui Da fuori area Ma quante volte ho provato Questo gol Ciprienne Rivediamo Rivediamo Questa qualsiasi Una tripletta Contro il Milan Per cui motivo di orgoglio Sicuramente questo per Rodraigo 6 tentativi 3 gol Applauso anche Dai tifosi Milanisti E Davvero Una sorpresa Anche per me Ci aspettavamo un match Più equilibrato Oggi Sfide 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 Finalmente Sono tornate le sfide Che mi mancavano Da tantissimi episodi Direi a questo punto Di tenere Rodraigo Titolare Perché il suo Momento di forma È esageratamente Buono E andiamo subito A giocare con l'Empoli Dai Anche perché Io dell'Empoli Ho un po' paura Ho dei brutti ricordi Per cui andiamo subito In campo Speriamo in bene Dai ragazzi Dai 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 Mancini Dentro Qua me Qua me Ne salta uno Qua me Cristian Qua me Subito in vantaggio E esultanza Del Panterone Subito gol Di qua me Ha iniziato bene Questa partita Poteva essere una chance Per Timo Werner Di andare avanti In classifica Cannonieri Però Abbiamo dato chance Anche qua a me Siamo una squadra Molto democratica Quest'anno Abbiamo tanti gioielli E bisogna farli giocare tutti Queste sono quelle partite Dove FIFA Ti strappa via due punti E dove ti fa pareggiare E non voglio pareggiare Io non voglio pareggiare Questa partita Dentro Rodraigo Il destro Miracolo di Brignoli Miracolo di Brignoli Svanberg Kluivert Il cross Mani Mani Occhio Sarà un cross E andrà Probabilmente in gol Occhio Miguelon Miguelon Pala dentro Lo sapevo Lo sapevo Partita stregata Ora è il momento dell'Empoli Ora è il momento Attenzione all'Empoli È arrivato il momento È arrivato il momento Attenzione Attenzione Occhio Miguelon Miguelon C'erano degli script Che facevano veramente Incazzare Però questo Cioè dire al cinquantesimo Finirà pareggio E finisce pareggio Non mi è mai successo Veramente Non mi è mai successo Andiamo a giocare contro il Napoli No c'è prima La conferenza stampa Questa è una partita molto delicata Sono le semifinali di andata Di Coppa Italia Quindi sediamoci a fare questa conferenza stampa Allora Come affronterete la prossima partita? Dobbiamo pensare a giocare bene Pensa che la sede del match Possa incidere sulla prestazione? Siamo dei professionisti Questa è la mia risposta classica Sto lavorando Siamo dei professionisti Spero di dare continuità Vedrete di cosa siamo capaci Dai un po' Ho sparato anche un po' troppo qua Con vedrete di cosa siamo capaci Ma ho fiducia nella mia squadra Vediamo intanto il tabellone Eh ci siamo ragazzi Lazio Juve da una parte Spal Napoli dall'altra Incredibile ma vero Il Napoli ha battuto i rigori il Milan Ed è per questo Che non incontriamo il Milan in semifinale Timo Timo Nel salta 1 Nel salta 2 Timo Werner 1-0 Subito al quarto minuto Quanto ci piace partire forte Quanto Quanto Timo Werner Va a raccogliere La braccia dei suoi tifosi Non poteva che iniziare così Questa semifinale Però occhio ragazzi Ai gol subiti Siamo fuori casa Siamo in casa Quindi i gol fuori casa Peserebbero di più Occhio al Napoli David David Chiuso da Scurso Questo è un grande intervento Ed è pure rimesso dal fondo Strepitoso qua Scurso Stiamo rischiando ragazzi Non sapevamo fino all'inizio Che non sarebbe stata una gara facile Interviene Scurso Però questi sono cartellini gialli Ben spesi Cosa che non facevamo in passato Occhio a questa punizione Se la danno a Digne è gol Occhio a Tutino Tutino Vicari Parata di Vicari Su punizione Questa voglio rivederla Questa voglio rivederla Guardate Tutino Era una punizione Perfetta Salvata In corner Da Antonino Vicari Occhio a Digne Cross dentro E questa volta Niente da fare Gol di David Uno pari Si sapeva ragazzi Abbiamo passeggiato Dopo l'1-1 Tanta autocritica da fare Abbiamo concesso troppo Va bene i miracoli Ma poi Quando arrivano le occasioni Buone per gli avversari I gol li sanno fare Quelli del Napoli Attenzione Donny Para Meret Olmo Pala dentro Werner Para Meret E' durissima ora E questo è gol Attenzione Gol di David Uno a due Pareggio con l'Empoli Ha distrutto tutto il morale Completamente Si era già capito Dalla conferenza stampa Dove ci avevano chiesto Se ci saremmo rifatti Bla 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 Quindi avevano già Settato il morale basso E con questo morale Ogni tiro e gol Dell'avversario Niente Barco Barco Proverà lui allora Barco Miracolo di Meret Arriva il fischio finale Persa in casa La semifinale di andata Contro il Napoli Che mette un piede e mezzo In finale Di Coppa Italia Adesso è tutto in mano nostra Ritorno da loro Dovremo fare Un'impresa Se vogliamo arrivare In finale di Coppa Italia Non me l'aspettavo Però purtroppo Il pareggio con l'Empoli Ci ha buttato il morale A terra Solo che dopo Il vantaggio immediato Di Werner Pensavo in una fine diversa Invece la doppietta Di David Porta il Napoli In avanti 1-2 Vediamo se Con una grande avversaria Come la Lazio Il drago si risveglia Come una fenice Dalle ceneri Speriamo Non so bene cosa dire La sconfitta con Napoli Pesa Tra l'altro volevo Subito rifarmi Ma Napoli in Coppa Italia Ce l'avremo fra tre settimane Quindi addirittura Penso fra Fra più di un episodio Per cui vabbè Avremo la nostra Prima impresa lì Da fare Però prima Andiamo contro la Lazio In campionato E speriamo di ottenere Tre punti Dai 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 Salto anche la intro Non mi interessa ragazzi Voglio tornare a vincere Bravo Birindellone Bravo Biri Donny Prova lui Onana Fucilato dal suo ex compagno dell'Ajax Calcio d'angolo Dentro Rodraigo Rodraigo Il tiro di Rodraigo Para Onana Finta di Rodraigo Bellissima Rodraigo Partito Il dragone Il dragone Il dragone Il dragone Il dragone Grande Rodraigo Segna anche con la Lazio Incredibile Incredibile Rodraigo Cuore Cuore del drago Che nonostante sia appena arrivato Percepisce il momento di crisi Si vede che è cresciuto in un grande spogliatoio come quello del Real Madrid Perché qua ha avuto la sensibilità La comprensione Rodraigo Dentro Timo Stop Timo 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 Parata di Onana Ipnotizza Timo Werner Rodraigo Dentro Donny Stop Donny Palla fuori Va bene Va bene Va bene Donny Va bene Donny Ha fatto un grande episodio Va bene Dentro Attenzione Svanberg Svanberg Palla fuori Palla fuori Palla fuori Il match ball finale Per chiudere la partita Palla fuori Finisce la partita 1-0 Contro la capolista E tutti con le sciarpe in cielo Per una vittoria soffertissima Ma ottenuta Secondo me Meritatamente In casa della Lazio In casa dei Bianco Celesti Che non hanno fatto neanche un tiro in porta Nübel Ha fatto una grigliata fra i pali In questa partita Così delicata Così sentita Purtroppo in Coppa Italia Abbiamo avuto una pesante sconfitta Che ha creato dei problemi a livello di morale Invece il pareggio con l'Empoli Si supera Con una grande vittoria con la Lazio E allora Bakuna 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 Cosa dobbiamo dire Bakuna? Merita tutti i complimenti Bakuna È un giocatore fantastico Straordinario Allora ragazzi Vedo una schermata Che promette bene E ci fa capire Che ci stiamo avvicinando All'inizio Europa League Comunque per il momento è tutto Grazie per avermi seguito Mi raccomando Tutti i link li trovate come sempre in descrizione Ci vediamo tra qualche giorno con il prossimo episodio Bella ragazzi